Cari fratelli e sorelle, oggi si celebra la giornata mondiale del migrante e del rifugiato, che quest'anno ha per tema verso un noi sempre più grande. È necessario camminare insieme, senza pregiudizi, senza paure, ponendosi accanto a chi è più vulnerabili, migranti, rifugiati, sfollati, vittime della tratta e abbandonati. Siamo chiamati a costruire un mondo sempre più inclusivo, che non escluda nessuno. Mi unisco a quanti nelle varie parti del mondo stanno celebrando questa giornata. La vita è una grande calling presente in PEOPLE ON THE MOVE. Questi sono i nostri ragazzi e sottotitoli, parte della nostra famiglia. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. che tutti viviamo in una casa comun, come fratelli, compartendo, essere tranquili e felici, llevandonos bene, tutti in comun. Saluto e ringrazio le diverse comunità etniche presenti qui in piazza, con le loro bandiere. E prima di lasciare la piazza, vi invito a avvicinarvi a quel monumento là, dove c'è il Cardenal Cerni. La barca con i migranti e a soffermarvi sullo sguardo di quelle persone e cogliere in quello sguardo la speranza che oggi ha ogni migrante di ricominciare a vivere. Andate là, vedete quel monumento. Non chiudiamo le porte alla loro speranza. Grazie. Grazie.